ciao ragazzi buonasera benvenuti scusate il ritardo questa sera ci sono stati un po' di problemi di connessione ma speriamo di averli risolti definitivamente allora ciao ivan ciao giovagas benvenuti si cerco di mantenere la calma dai tanto il problema si è risolto pare ok allora anche stasera facciamo un altro live mixing un brano bello tosto questa sera sicuramente ivan sarà contento il brano si intitola happy pills dei candle box che come al solito potete trovare nel sito cambridge music technologies dove ci sono tantissime multitraccia e potete scaricarli liberamente per esercitarvi quindi vi lascerò il titolo e il link in descrizione anche di questo brano così se volete scaricarlo e provare anche voi a mixarlo potete liberamente farlo allora come al solito ho già preparato la mia sessione dividendo le tracce nei bass che confluiscono tutti sul mix bass dove ci sono i plugin che di solito già attivo ma per il momento sono disattivati cominciamo a sentire il brano e vediamo cominciamo a sentirlo e poi vi dico come ho suddiviso i vari bass ciao 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 Sì 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 Ok, cominciamo a fermarci qua. Ciao Nanti, benvenuta. Allora, Ivan sei contento del pezzo di questa sera? Sì, Giova sì. Sul mix bassa per il momento c'è la solita catena che comunque adesso andiamo a vedere. Ok? Prima spieghiamo un attimo come sono state suddivise le tracce. Ciao NVIDIA Records, benvenuto. Allora, abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci tracce di batteria, tre di basso, due chitarre elettriche, una voce solista e due backing vocals. Queste sono tutte le tracce del pezzo. Io ho già raccolto le due tracce di cassa in un bus. Le due tracce di rullante sopra e sotto in un altro bus. Poi c'è il charleston. Ci sono tre tom, anche questi raccolti in un loro bus. Gli over stereo e una room stereo. Tutte queste tracce, quindi il bus della cassa, il bus del rullante, il charleston, il bus dei tom, gli over e la room vanno a finire nel drum bus che raccoglie quindi tutti i segnali della batteria. La stessa cosa succede per il basso. Le tre tracce del basso vanno a finire anche queste in un loro bus, che si chiama bus, appunto, o bass. Le due chitarre vanno a finire nel gruppo delle chitarre elettriche. La voce solista ha un suo gruppo e le backing vocals hanno un loro gruppo. Tutti questi gruppi vanno a finire nel mix bus. Questo bus che vedete qui verde, che ha davanti un master che mi serve per controllare il volume in entrata al mix bus e un altro master che va direttamente ai monitor, quindi ai miei convertitori, dove ho l'analizzatore di spettro, il tone balance e altri meter plug-in. Sul mix bus ho già i miei plug-in soliti con quale comincio, quindi alcuni li conoscono già a memoria, perché li ho già riperduti diverse volte. Altri che sono qui per la prima volta possono vedere quali sono i nostri plug-in soliti che usiamo sul mix bus. A proposito, abbiamo pensato di creare un template del progetto che usiamo di solito, quindi con i plug-in già inseriti sul mix bus, ma anche sugli altri bus, per facilitare le cose. Quindi è una cosa che volevamo mettere in vendita a un prezzo veramente ridicolo. Se siete interessati, volevamo farlo per diverse piattaforme, quindi con tutti i plug-in che utilizziamo noi, ma anche con i plug-in stock, sia per Pro Tools che Logic e Cubase per il momento. Quindi fatemi sapere se siete interessati. Ciao Mr. Titus, benvenuto. Ciao Giovanni Ciocca. Domanda più o meno generica di Ivan Drums. Come ci si comporta nel caso si volesse mandare al mastering un brano? Mi riferisco principalmente al mix bus, nel caso della classica catena Rack & Mix. Ivan Drums si, Cubase si, va bene. Sì sì, è uno dei... dei led-o che abbiamo in mente sul quale fare il template. Allora, come ci si comporta nel caso dovessi mandare il brano in fase di mastering? La catena sul mix bus la lascerei comunque attiva, perché le mie scelte vanno in base a quello che quello che succede sul mix bus. Se ho un compressore attivo, questo andrà a comprimere se alzo ad esempio la cassa, mettiamo in mezzo a un mix comincio ad alzare di più la cassa e il compressore risponderà. Quindi il mio balance è influito da quello che c'è sul mix bus. Quindi tutti questi plug-in rimarrebbero. Starei attento a non esagerare con i volumi se dovessi mandarlo a fare un mastering da un mastering engineer terzo, diciamo. Quindi starei attento a non esagerare con i volumi e se possibile disattiverei il brick wall limiter, altrimenti farei in modo che lavori proprio il minimo possibile solo per attenuare certi picchi. poi è il mastering engineer che vi dirà prendo va bene questo mix lavoro così oppure tengo questo mix come riferimento disattiva tutto e mandami il brano senza niente sul mix bus. Difficilmente questa è una cosa difficile che può succedere perché dipende poi questi plug-in quanto influiscono il sound del brano però può succedere quindi chiedete al vostro mastering engineer qual è la soluzione migliore per lui. ciao sono distorto allora come ho detto se il limiter non sta facendo niente non taglia niente perché il brano è basso lo toglierei però se ho qualche picco che sfora cercherei cioè lo lascerei attivo assicurandomi che vada a tagliare solo in alcuni punti non che proprio il brano sia già cresciato se no è difficile poi intervenire in fase di mastering e comunque non andrei a dargli un brano a dare a un mastering engineer un brano troppo alto di volume perché dopo si succede una cosa un po' che definirei nel campo della psicoacustica voi siete abituati a sentire un brano molto alto di volume il mix engineer si accorge di il mastering engineer diciamo si accorge magari di distorsione introdotte da questo volume troppo alto e vi consegna un master più basso a voi piacerà sempre il vostro perché è più alto di volume ma non è detto che suoni meglio a parità di volume quindi se so che andrà a un mastering engineer cercherei di stare calmo con il volume per non farmi troppo influenzare e mi concentrerei meglio su altri aspetti del mix come per esempio gli ambienti oppure i passaggi la dinamica tra i vari passaggi tra le varie fasi del mix ciao Stefano Ragni benvenuto oppure ti chiede rifai la cassa che suona male se ci sono problemi proprio insormontabili il mastering engineer ti può chiedere di intervenire un'altra cosa che di solito può venire chiesta è quella di mandare gli stem separati in questo modo il mastering engineer ha più possibilità di intervento se c'è un problema particolare e non c'è bisogno di rifare il mix però queste cose le potete scoprire solo dopo che avete mandato il brano sarà il mastering engineer a dirvi cos'è la cosa migliore da fare e io mi affiderei al suo giudizio come faccio io quando mi mandano i brani da masterizzare se il brano è a posto così e posso intervenire non chiedo niente se invece ci sono dei problemi molto particolari chiedo che venga abbassato piuttosto che intervenire su un singolo strumento o consiglio di mandarmi gli stem separati che è un'operazione che costa un pochino di più però a volte ne vale la pena come la pubblicità del magnum che si sente lo schiocco del cioccolato altissimo e attira di più quello lì l'hanno fatto apposta penso Giovanni Ciocca io di solito li mando a meno 18 meno 20 ma di che valore di cosa stiamo parlando di che valore stiamo parlando perché se stiamo parlando di picco è una cosa se stiamo parlando di LUFS è un'altra di VU è un'altra ancora di RMS è un'altra questo è interessante sono distorto ho letto tipo sulle scienze hanno fatto un test con delle persone che sentivano il crunch di due patatine solo con differenza di volume e tu ti sembrava più croccante quella più alta di volume eh sì è così il nostro noi ci sembra sempre più bello quello che è più alto di volume però quando andate a caricare il brano sui servizi di streaming che di solito hanno una compensazione automatica adesso del volume e quindi più o meno tutti i brani vengono portati allo stesso volume nonostante voi lo mandiate alto o basso se il confronto è a parità di volume percepito sto dicendo eh non di picco attenzione se il confronto è a parità può essere che eh un brano che risulta più basso come file diciamo suoni meglio perché quando si cercano di raggiungere volumi molto alti come adesso ci sono dei brani anche a meno 5 le UFS di media eh ci possono essere dei problemi di distorsione molte volte ci sono quindi va bene eh cercare di avere un volume alto se voi avete Spotify per esempio non la versione gratuita ma quella eh in abbonamento potete disattivare la compensazione automatica del volume e vi accorgete che i brani moderni hanno un volume molto alto sono stati caricati ad un volume molto alto quindi ancora c'è una loudness war anche se questi servizi di streaming cercano di compensare in automatico anzi ci sono anche degli stratagemmi che vengono utilizzati perché il la compensazione di volume viene fatta da questi servizi di streaming sulla media di tutto il brano quindi ci sono dei brani che proprio in fase di arrangiamento e composizione vengono pensati con per esempio un intro una strofa molto bassi di volume e un ritornello molto alto la media sarà comunque bassa perché l'intro e la strofa sono basse quindi il servizio di streaming porterà molto su il livello del brano e quando entra il ritornello sarà più alto dei ritornelli delle altre canzoni sono state proprio studiate queste tattiche per far suonare il pezzo più alto anche nei servizi di streaming dove c'è la compensazione del volume automatica ciao Aurelio benvenuto sì java gas cioè il nostro udito funziona così siamo portati a percepire come è più bello sempre quello che è un po' più alto di volume però se fate questo lavoro dovete sforzarvi a capire quali sono le differenze anche a volumi diversi per esempio come ho detto altre volte ci sono delle macchine che non hanno un output di uscita se voi per esempio mixate su un SSL e intervenite sull'equalizzatore potete attivare o disattivare l'equalizzatore ma non avete un volume di uscita proprio dell'equalizzatore quindi dovete capire attivandolo disattivandolo anche con la differenza di volume se il vostro intervento è efficace o no questo succede con molte macchine hardware anche il pulltec per esempio non ha un potenziometro di uscita quindi la vostra abilità deve anche cioè dovete riuscire a capire quello che succede anche con volumi diversi sono distorto pretolesi dice che guarda di più il dynamic range rispetto all'LUFS anche io guardo sempre che deve avere nel caso Ausa Tecno almeno 3db di rms dynamic range altrimenti non si muove sì il dynamic range è importante anche quello comunque in linea generale il volume ora non è tanto un problema perché come vi ho detto prima l'arma cioè tutti i servizi di streaming hanno una compensazione del volume automatica in alcuni si può disabilitare come Spotify ma ne solo nella versione in abbonamento e quindi nessuno lo fa diciamo lo facciamo lo faccio io lo fanno quelli come me perché per lavoro devono capire che cosa succede però l'utente medio che ascolta la canzone non lo fa quindi il volume non è un grosso problema oggi non è più come una volta che avevamo i cd e confrontavi un cd con l'altro la questione è quella di concentrarsi di più su come suona il pezzo e a volte ci si concentra troppo in realtà sul mix e poco sulla canzone in sé e sull'arrangiamento che sono quelle le vere chiave di svolta perché oggi i mix sono bellissimi anche confronto a tempo fa quasi tutti i mix sono belli ma quello che manca veramente è la canzone secondo me Giovanni Ciocca dicevi di B ma quali di B quelli di Pro Tour da Pro Tools del meter di Pro Tools di BFS allora sì quelli dici ok mandare un brano con i di BFS che ha meno 18 o meno 20 non ha molto senso perché quelli di BFS vanno a segnare il picco del segnale quindi tutto quello spazio che hai vuoto non è occupato da niente non importa se il tuo picco è a meno 20 o meno 1 l'importante è che sia integro che non sia che non sfori lo 0 di BFS e quindi non venga distorto o che non sia schiacciato da un limiter o da un compressore quindi se sta a meno 20 o meno 1 non importa l'importante è che sia integro ecco per stare attento che non succedi niente magari cerca di stare con una media meno 6 meno 10 ecco però non c'è bisogno di andare così in basso sono distorto la tecnica da sola non serve a nulla infatti ci starebbe durante l'audio anche un brano un album del giorno suggerito da voi per non parlare solo di robe tecniche guarda hai centrato proprio l'argomento infatti abbiamo già pensato di introdurre una nuova rubrica dove consiglieremo degli ascolti non li possiamo far sentire in diretta per questione di copyright sicuramente ci buttano giù subito il video quindi non li faremo sentire però ne parleremo vi consiglieremo i brani da andare ad ascoltare magari con dei cenni storici sul brano eccetera eccetera lo faremo sicuramente probabilmente non da questo lunedì perché abbiamo un altro ospite ma dal lunedì dopo che ricominciamo con le solite rubriche introdurremo cercheremo di introdurre anche questa rubrica va bene ragazzi torniamo al nostro mix ok quindi detto questo andiamo ad attivare a riattivare la catena sul mix bass quindi come dicevo il nostro primo plug-in come al solito è l'analog channel di mac dsp in modalità multimono in questo modo vengono create proprio due plug-in due istanze che lavorano singolarmente una sul canale sinistro e una sul canale destro in questo modo la compressione e la saturazione introdotta non sono linkate ma lavorano in modo indipendente come succede in un vero mixer analogico perché questo plug-in emula la compressione e la saturazione introdotta non dal compressore ma dai circuiti del dei mixer del canale dei mixer analogici questo è il primo plug-in il secondo plug-in è un NIV 33609 di Universal Audio che di solito non comprime neanche la ratio è bassissima 1,5 a 1 e la threshold al massimo e il release più veloce possibile serve solo per dare il suo colore perché Universal Audio ha emulato i trasformatori e tutti i circuiti interni quindi ha proprio un suo colore e siccome mi piace lo metto già all'inizio del mix il terzo plug-in è il PuigTech che è l'emulazione del PuigTech creata da Waves Audio con un boost sulle basse e un boost sulle alte mi serve per dare la classica Smile Q poi c'è l'Inflator che aggiunge un pochino di saturazione e gonfia un po' il segnale infine c'è il limiter che mi serve per prevenire come dicevamo prima che dei picchi sforino lo 0 dB FS e quindi il mix vada in distorsione in questo caso l'output è settato a meno 0.4 dB in modo da lasciarmi un piccolo margine anche se qualcosa scappa perché anche se c'è scritto True Peak Limiting questo ha il Pro L2 di FabFilter qualcosa scappa comunque quindi con questo margine sono salvo allora sentiamo risentiamo il brano con la catena disattivata e poi attiva per vedere che cosa fa il primo allenamento non vi dovete far influenzare dal volume ma cercare di capire quello che succede attivando i plug-in come dico sempre questa è come se fosse il passaggio nel mio mixer virtuale in primo già un suono al mio mix infatti i transienti vengono un po' domati c'è un pochino di saturazione che incolla meglio le tracce tra di loro e anche un pochino più di apertura stereofonica come dicevo prima tutti questi plug-in vanno attivati all'inizio del mix perché le scelte che prenderò sono influenzati da quello che succede qua quindi se per esempio adesso vado a lavorare sulla cassa questi plug-in già mi aggiungono un po' di saturazione che non ho bisogno di dare sulla singola traccia quindi tutte le mie scelte vengono comunque influenzati da questi plug-in per questo che non li disattiverò mai se dovessi mandare il brano a fare un mastering esterno ok cominciamo a vedere cosa succede sulla batteria allora si sente la chitarra e le tracce della chitarra sono chiuse quindi probabilmente hanno registrato tutti nella stessa stanza e quindi nei microfoni della batteria rientra anche la chitarra cerchiamo di capire in che microfoni è molto probabilmente sarà nella room non si sente tantissimo probabilmente erano molto distanti o magari erano in due sale di ripresa diverse ma qualcosa comunque rientrava e comunque nella room si sente la chitarra tutta destra quindi se adesso volessi intervenire andando a comprimere e distorcere come faccio di solito la room tirerei ancora più sulla chitarra quindi siccome non voglio rischiare che questo succeda per il momento questa room verrà eliminata vediamo se rientra ancora la chitarra nelle altre tracce si sente un pochino però è accettabile quindi per il momento eliminerei la room e tarrei la batteria così com'è ciao pastabe benvenuto allora come dicevo da prima la catena sul mixbass va attivata prima di cominciare il mix poi dopo abbiamo fatto tutto un discorso molto lungo oggi quindi se vuoi rivedere l'inizio poi stasera il video verrà subito ripubblicato su youtube quindi puoi rivederlo come al solito prima di intervenire andiamo ad attivare una parallel sulla batteria e ci mettiamo il puig child 670 che è l'emulazione del fire child 670 di waves audio sentiamo prima senza e poi con il puig child in parallelo inserito musica Anche qui Come dicevo prima dovete abituarvi A fare una valutazione Di quello che succede indipendentemente Dal volume perché sto Inserendo una compressione Parallela che per ovvi motivi Mi tirerà su il volume Perché è come se duplico un canale E sul canale duplicato Inserisco una compressione Quando vado ad attivare Il canale duplicato Anche se al minimo di volume Sarà sempre un volume che viene sommato A quello del canale originale Quindi avrò un incremento E qui proprio dovete imparare A valutare Senza farvi influenzare dall'aumento di volume In questo caso Il Puig Child introduce Una distorsione e Contemporaneamente Comprime già un pochino Quindi Se ci fate caso La batteria Sembra più tutta insieme Più realistica Viene portata un pochino più avanti E le tracce Sembrano più coese tra di loro Proviamo a risentirla Prima senza E poi con Anche se poca La compressione Mi dà già Una forma Ai transienti Diversa Sentite anche I piatti Che risaltano Molto di più E sembrano Più Full Più grossi Questo mi serve Già Per dare Più dimensione La batteria Giovanni Ciocca Usi quelli Della Waves Invece Dei UAD Per il DSP No In questo caso No Perché Uso questo Perché mi piace Quello che fa Sulla batteria Quello di UAD Molto bello Però suona diverso E fa un'altra cosa Quindi Non lo utilizzo mai Come parallel Sulla batteria Per ora Poi magari domani Scopro che è il più bello Del mondo Decido Che mi piace E lo userò Ok Allora Andiamo Intanto a sentire Le tracce Della cassa Ok Un microfono È dentro La cassa È stato inserito Dentro la cassa Quindi Attraverso Il buco Nella pelle davanti Molto probabilmente L'altro microfono È fuori Davanti alla cassa Probabilmente Appoggiato Quasi appoggiato Alla pelle Hanno due sound Differenti Dobbiamo farli Lavorare Insieme Quindi Cominciamo A aprire Un SSL Channel Su La prima traccia E andiamo A Lavorarci un po' 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 Una jews Lavorarci un po' Grazie a tutti. 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 Ok, con il gate siamo andati un po' a tagliare i rientri degli altri strumenti, non esagerando perché sennò dopo la cassa suona troppo innaturale, quindi il range non è al massimo. E sentite che ogni tanto si sente qualcosa, ma altrimenti con l'attacco e il rilascio suonano in modo troppo innaturale, secondo me. Quindi non li uso sempre al massimo. Proviamo a vedere se sono in fase i due segnali. Ok, sono già in fase perché vi accorgete perché quando girate la fase di uno dei due segnali sentite che spariscono delle porzioni, di solito sulla parte bassa del segnale. risentiamo. Sentite che le basse si attenuano, queste perché vengono cancellate per la differenza di fase. Quindi siccome lasciandole così come sono ci sono più basse, le teniamo così. Poi un altro metodo è quello di andare a zoomare la forma d'onda e allineare bene le tracce tra di loro. Questo è un altro metodo efficacissimo, ma possiamo anche lavorare in questo modo. Nel mondo analogico, quando non c'era il computer, si lavorava solo in questo modo. Ciao Francesco, benvenuto. Il gate non taglia un po' l'attacco della cassa. Dipende come lo setti. Su questo plugin e di solito su tutte le channel strip che derivano dalle console SSL, c'è solo due impostazioni, fast attack o slow. In questo caso lo uso come fast attack e non dovrebbe tagliarti niente. Alcune volte l'attacco veloce può introdurre un piccolo click che a volte può essere fastidioso, a volte può essere anche utile sulla cassa perché ti dà un piccolo attacco in più. Anche sul rullante abbiamo due tracce. Una il microfono sopra il rullante e una il microfono sotto il rullante. Quindi andiamo a vedere se sono in fase tra di loro come prima. Invertiamo la fase di un canale e vediamo cosa succede. Anche qui, invertendo la fase, sentite che si perdono le medio-basse, la pancia, il corpo del rullante. Quindi vuol dire che le tracce sono già in fase e invertendole vado a cancellare quella parte del segnale. Quindi vanno bene così, lasciamole così. Quando vi trovate con una batteria registrata, multimicrofonata, andate sempre a cercare queste cose, soprattutto se avete due microfoni sullo stesso fusto. Perché può essere che se sono in controfase non riuscirete mai a far venire bene fuori lo strumento, come per esempio la cassa o il rullante. Poi ci sono delle tecniche di allineamento delle singole tracce, che magari vedremo in un'altra volta o se volete nel nostro videocorso dedicato al mixing della batteria. È già spiegato tutto lì. Ora andiamo ad aggiungere un SSL channel anche qui, però sul gruppo del rullante. In questo modo tratto allo stesso modo tutte e due i canali, come se fossero un unico segnale. Anche qui abbiamo usato il gate. Il gate, questa volta come expander, quindi meno aggressivo diciamo, non viene proprio tagliato il segnale ma sottratto, diviso. Ecco, questo è il termine migliore. In questo modo posso abbassare un pochino i rientri soprattutto del charleston. Non è sempre necessario utilizzare i gate, dipende dal genere e dal tipo di sound che volete ottenere. Ovviamente più volete lavorare sul singolo strumento, sul singolo fusto, più dovete isolarlo dal resto. Perché, per esempio, se dovessi andare a intervenire fazzescamente sulle alte frequenze di questo rullante, rischierei di tirar fuori anche tanto il charleston. Quindi sarebbe meglio tagliarlo dal segnale con un gate, per esempio. Oppure utilizzare un campione anche dello stesso rullante ripreso singolarmente e andare a intervenire sul campione che quindi non ha rientri. Oppure usare tutte e due le tecniche insieme come facciamo noi di solito. Grazie a tutti. Sì, pastabe, ho provato l'auto a line della Sound Radix. Ti dico la verità, non mi è piaciuto molto perché non fa sempre la stessa cosa. E quindi quando decido di intervenire in quel modo lo faccio a mano, che almeno sono sicuro di farlo correttamente. Non è che ci vuole tanto più tempo, perché anche con Sound Radix devi aprire il plugin in ogni traccia, creare il master, gli slave, bla bla bla. Una volta che prendi la mano, fare l'allineamento non è una cosa così da impazzire. Ci sono anche, anzi preferisco, se devo fare quel lavoro più preciso, il plugin in phase della Waves è molto interessante, perché ti permette di fare un confronto preciso senza dover zoomare dentro le finestre, spostare le tracce, eccetera, eccetera. Francesco, sul jazz penso che alla fine non convenga tagliare. No, sul jazz assolutamente no, perché di solito fanno, i batteristi jazz, fanno talmente tante cose, anche sottili, che se tu vai a tagliare con un gate sul rullante, probabilmente vai a eliminare anche delle ghost note o qualcos'altro che invece in quella performance ci vuole. Allora, come al solito, andiamo a vedere se la nostra batteria è stata pensata drummer perspective o audience perspective, quindi questo si capisce da come sono posizionati gli overhead. Se sento il charleston a sinistra e il ride a destra, la batteria è posizionata in modalità drummer perspective, quindi come se stessimo ascoltando la batteria seduti sul seggiolino del batterista. Se sono al contrario, invece, siamo in audience perspective, quindi come se io fossi posizionato davanti alla batteria, davanti al batterista e anche a tutta la band, che mi sembra la cosa più logica in realtà, anche se alcuni preferiscono utilizzare l'altro modo, probabilmente perché sono batteristi. se stessimo ascoltando la batteria, sembra di essere in audience perspective quindi con il charleston a destra quindi andiamo a posizionare già il charleston un pochino a destra e tom di conseguenza quindi il rack tom un pochino a destra e i due floor tom a sinistra diamo un ambiente a rullante grazie Grazie a tutti. Non vi preoccupate se vi sembra troppo al momento, perché poi in mezzo a tutto il mix questo ambiente si confonderà, ma mi darà più coda al rullante e anche più pienezza. Diamo anche un ambiente generale a tutta la batteria, anche perché abbiamo mutato la room, quindi creiamo una fake room, diciamo. Utilizziamo magari un plugin che ricrea le stanze reali come il nostro preferito, Sunset Sound Reverb. Dove hanno IK Multimedia praticamente campionato le stanze del Sunset Sound. Ok, proviamo a duplicare un attimo la traccia della cassa, quella col microfono dentro la cassa. E mettiamogli un campione per dargli un pochino di rinforzo sul battente. Carichiamo il nostro trigger del caro Steven Slate. Così è troppo. In questo modo, senza andare a esagerare con l'equalizzazione, abbiamo aggiunto un po' di punta alla cassa. Cerchiamo di fare la stessa cosa anche con il rullante. Qui utilizziamo un'istanza mono to stereo del trigger, perché nel rullante ci sono dei campioni. Nei campioni che uso di solito ci sono dei sample stereo. In questo modo andiamo, come ho detto prima, ad aggiungere quello che manca, senza esagerare con l'equalizzazione e magari trovarci in difficoltà, perché ci sono già troppi rientri. Domanda per gli utenti, Ivan. Da quando seguite queste dirette, quanti soldi avete investito in plug-in? Io troppi. Dovremmo fare dei buoni rec-mix. Questo sunset sound mi piace sempre di più ogni volta che lo apri. Mi piace anche a me, Stefano. Vedremo, vedremo se riusciremo a fare qualche partnership. Qualche plug-in siamo riusciti a regalarlo finora. E spero che qualcuno di voi è rimasto contento. Sì, è rimasto contento. Ok, dai, proviamo a aprire un attimo il basso. Dai, vediamo che questa sera siamo andati belli lunghi, con le spiegazioni. Allora, sono un pochino bassine queste tracce. Mettiamo un LA2A e guadagniamo un po' di volume sul basso, perché sono un po' basse. Potremmo altrimenti andare a intervenire sul trim della singola traccia. Però noi siamo per le soluzioni semplici e quindi facciamo così. Ok, con lo smooth operator teniamo un po' sotto controllo le basse. Mettiamo un pochino. qui non utilizzerei il track spacer come facciamo di solito perché ci sono tanti colpi di cassa e il basso fa come un tappeto sotto e non vorrei che abbia continuamente degli sbalzi di volume provocati dal track spacer quindi cerco di far convivere insieme sia la cassa che il basso in questo caso il basso in questo caso questa traccia di di non è che mi piace molto proviamo a farla diventare un ampli anche questa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ok apriamo anche le chitarre sentiamole da solito ok abbiamo due chitarre che fanno due cose diverse alcuni punti in alcuni punti fanno la stessa cosa mettiamole una a sinistra e l'altra a destra siccome già dall'inizio c'è il charleston che sta a destra la chitarra che comincia da sola la mettere la metterei a sinistra in questo modo creo già una spazialità ok diamogli sempre un po' di volume usiamo un l a 3 a che lo usiamo anche per dargli un po' di movimento allora anche queste chitarre come alla batteria gli diamo un ambiente per farle sembrare più all'interno di un vero di un ambiente reale e usiamo l'abby road chambers che è un po' lo stesso concetto del sunset sound nel sunset sound abbiamo usato le vere stanze di ripresa non le chamber che ci sono anche nel sunset sound qui ci sono solo le chamber degli abby road e utilizziamo queste che erano quelle stanze utilizzate per creare l'ambiente quando non esistevano gli ambienti finti cioè il plate o più tardi i riverberi digitali lascia un po' di tempo ok fate caso spegnendo e accendendo le rispondendo il lobby road chamber cosa succede alle chitarre cosa succede soprattutto al corpo delle chitarre prima senza e poi con sentite che il corpo diventa più grosso le chitarre diventano più tridimensionali e questi vengono portati anche un pochino in avanti se avete già un bell'ambiente nella traccia registrata magari non avete bisogno di utilizzarlo ma in questo caso è utile ok proviamo attivare a questo punto il nostro ssl bus compressor sul mix bus un pochino ecco in brani o in parti come questa state attenti quando utilizzate un compressore sul mix bass perché può succedere come una parte così che quando non c'è niente quando c'è solo una chitarra il compressore non fa niente e quindi la sentita un certo volume quando interviene tutto il resto di colpo cosa succede il compressore comincia a lavorare e schiaccia tutto quindi se state comprimendo troppo quando interviene il compressore il brano al posto di partire come dovrebbe viene affondato quindi è molto in brani tipo questo è molto importante stare attenti a questa cosa e se state comprimendo tanto vi piace comunque il sound che il compressore da ma sentite questo difetto dovete andare a correggerlo con l'automazione quindi quando c'è la chitarra da sola andate ad abbassarla con l'automazione in modo da riportarla al volume giusto quando interviene tutto ma comunque voi dovete percepire una tra virgolette esplosione quando parte il brano allora francesco perché lo attivi soltanto dopo l'ssl bass compressor giova gas per dare per creare amalgoma sicuramente ivan dran secondo me per godere della botta e del glue allora lo attivo dopo per questo motivo che vi ho detto prima perché può creare degli interventi sulla dinamica del pezzo che può andare a possono andare a creare dei problemi quindi a volte lo attivo lo attivo sempre per vedere che cosa fa tweak l'attacco e il rilascio per dare quel disegno ai transienti che voglio ma può essere anche che come avete visto altre volte lo disattivo oppure utilizzo degli altri compressori perché non fa esattamente quello che voglio ogni mix è a se stante e ogni mix ha bisogno del suo colore e del suo secondo me compressore che incolla tutto quindi a volte molte volte il bass l'ssl bass compressor ci sta bene quindi lo tengo già lì e già impostato come di solito lo utilizzo con l'attacco al massimo il rilascio al minimo e la ratio di 4 a 1 però molte volte lo vado a vado a tweakarlo come avete visto adesso ho cambiato l'attacco e il rilascio altre volte ci lavoro un po' vedo che non mi piace quello che fa e vado a utilizzare degli altri compressori a volte provo delle altre emulazioni di ssl bass compressor perché anche se emulano lo stesso plugin sono tutte diverse tra di loro ognuna con i suoi pro e i suoi contro questa è quella che di solito preferisco e quindi me la tengo già lì pronta per essere attivata però altre volte utilizzo dei compressori diversi tante volte sto usando in questi giorni l'ssl l'smi compressor anche se non sarebbe proprio una cosa da utilizzare sul mix bass ma facendolo comprimere appena appena e con il dry wet veramente dalla parte del dry cioè pochissimo wet introdotto quindi il segnale dry con un pochino di segnale compresso alla morte con quel plugin in più mi dà un sound che mi piace sui brani aggressivi di solito quindi ultimamente al posto dell'ssl bass compressor a volte utilizzo questo esatto mister titus all'inizio i volumi non sono ancora non sono ancora definiti quindi se lo faccio lavorare troppo all'inizio magari potrei trovarmi con un compressore che lavora troppo o in modo improprio quindi come ho detto l'analog channel che un pochino anche fa da compressore e il niv 33609 in questa fase non fanno niente se andate a vedere quello che fanno i meter ma lascio il lavoro proprio del compressore all'ssl bass compressor che inserisco una volta che ho già fatto un balance di massima tra i vari elementi del mix l'API Francesco lo uso a volte l'API 2005 intendi lo uso a volte sul bass delle chitarre mi piace più quello che fa sulle chitarre che sul mix bass va bene ragazzi oggi siamo già andati un po' lunghi direi che ci fermiamo qui poi magari andiamo avanti la prossima volta con questo brano ci vediamo lunedì con Max sempre con Marco Barusso come ospite super ospite che ci racconterà un po' dei suoi lavori la Cunacoil l'IPU eccetera eccetera quindi vedremo faremo una bella intervista con lui ci sarà molto da parlare quindi non mancate ciao a tutti e vi aspetto lunedì ciao buona serata ciao